Ha dell'incredibile quello che sta capitando al Tribunale di Vicenza e al Policlinico di Padova. Il Tribunale di Vicenza, quello nuovo, è stato costruito 4 anni fa con la modica spesa di 24 milioni di euro. Adesso traballa, scricchiola, ci sono delle crepe, c'è uno dei blocchi che sprofonda, ci sono infiltrazioni nelle parti alte. Insomma, gli avvocati e magistrati lavorano in mezzo alle pozzanghere. L'architetto che ha costruito questo nuovo Tribunale nel quartiere Borgo Berga dice ma io adesso cosa volete da me? Io il lavoro l'ho fatto, sono problemi vostri. I sindaco variati su tutte le furie, adesso stanno per inserire dei sensori, per fare delle perizie, dei controlli perché bisogna accertare che questa struttura stia in piedi. è abbastanza dato per escluso il rischio di un crollo ma insomma è una struttura che sta davvero andando in pezzi e quindi bisognerà intervenire in qualche modo. Tutto questo accade dopo che si è cancellato con un colpo di spugna il Tribunale di Bassano del Grappa nuovo di Zecca, una struttura straordinaria che è lì come una cattedrale al deserto perché il Ministro della Giustizia ha deciso tempo fa di trasferire tutta l'attività a Vicenza, il porto delle nebbie. Figuratevi che il Tribunale si va a finire. Non solo non funziona il Tribunale di Vicenza, è una lentezza incredibile, ci sono fascicoli dappertutto mentre Bassano funzionava benissimo. Adesso rischia anche di finire in macerie. Al Tribunale di Vicenza succede questo, all'ospedale di Padova una situazione sconcertante. Si sta trasferendo su un'unica piastra la clinica ostetrica e quindi parliamo di parti, parliamo di medici che lavorano, che fanno interventi delicati, di neonati. Ebbene questa piastra andrebbe su un pavimento che è puntellato, praticamente sotto ci sono dei corridoi sotterranei e tutto puntellato perché anche lì c'è il rischio di qualche cedimento e nessuno che dica no fermiamo questa operazione, evitiamo di farla, il Sindaco Biton ci tace, non si capisce perché il primo cittadino non intervenga su una questione così delicata e che è così rischioso, oltretutto nei sotterranei ci sono dei cartelli, li abbiamo mostrati nei giorni scorsi, che parlano di un rischio di amianto, la presenza di amianto e quindi questo avviso che dice attenzione perché l'amianto come sappiamo è, la polvere di amianto è cancerogena. Cos'altro dire? A Padua in particolare si potrebbe accelerare l'operazione del nuovo ospedale invece di spendere 200 milioni per mettere le toppe al vecchio policlinico, dovrebbero accelerare i lavori, anzi partire al più presto con i lavori per il nuovo ospedale e chiuderla lì perché è inutile stare lì a cercare di riparare i buchi del vecchio. Sono storie all'italiana e in qualche modo alla Veneta perché è proprio in Veneto che la giustizia e la sanità in questo caso sono trattate a calci, diciamo così.